Musica Ed eccoci qua ragazzi Bentornati sul mio canale Qui è sempre Uchikagimer che vi parla E siamo tornati su Resident Evil Village Siamo qui esattamente nel punto in cui ci siamo salutati La scorsa volta o meglio abbiamo sconfitto Moro E qui abbiamo adesso come vedete Tre flaconi su quattro Quindi ora nella parte sotterranea Qui c'era questa parte Ma grosso modo Non ci è dato Sapere di dove andare Perché qui abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare Quindi ora Abbiamo da fare Questo coso E abbiamo la manovella E abbiamo la manovella Ok Quindi ora Esatto Ok mi curo un attimo Poi Creo Queste qua Ok Così che c'ho Il flacone Le munizioni Ok ora possiamo andare E vi chiedo scusa Nuovamente ragazzi Nell'episodio precedente La parte iniziale Si vede Molto poco Ma capite anche voi Che Ho avuto dei problemi Con L'equipa Le Il game capture Che mi ha Mi si è stoppato Nel mentre stavo registrando E quindi Ho fatto quello che ho potuto Quindi Vi chiedo scusa Se l'episodio precedente Si vede male E non si sente Perché mi sa che l'audio Non è stato preso Quindi Ecco ci sono dei cadaveri Di cavallo Wow 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 Ok Ok Tu sei morto Ok Uh munizioni magnum Pianta E ok Ma Siccome io arrivo Da qua sotto No Di qua Che Caspito C'è Ah una cassa Vedi Da cui Arrivo Comunque Ah Vedi C'era Questo Cosa qua Lo stemma Ok Stemma della sirena Che Dovrebbe essere Il simbolo Di moro Ok Quindi poi Noi saliamo Ah ok Vedi Noi arriviamo di qua E ritorniamo qui dove ho ammazzato i cosi volanti Salve Poi Noi andiamo Da questo Di qua Ah questo è E' vivo Anche lei c'è Salve Oh grazie munizioni Poi Di qua abbiamo fatto Di là abbiamo fatto Quindi dovremmo essere a posto Qua c'è ancora qualcosa Mi segna che qua sopra c'è qualcosa O almeno mi dice che qui ho ancora qualcosa da pigliare Ma io non vedo niente Ah Ok queste Ok ora siamo a posto Quindi tecnicamente dovremmo andare su Sulla carrucola Perché sulla carrucola? Perché mai qua Salve Ok Madre Miranda mi ha dato una montagna Cadù Ok Il cadù è quella cosa che abbiamo visto anche da Chris Lì nel laboratorio dove c'era anche il duca Wow Una magnum Ok Abbiamo sbloccato la magnum E trovo meglio con questo Wow Vai vieni Vai vieni Qui che cosa c'è Niente In quell'altro edificio laggiù Niente Fantastico E qua non Ok E qua c'è un sentiero che sale Ma ritorniamo Alla Alla carrucola Cioè sostanzialmente Cioè sostanzialmente Perché torniamo di là Quindi forse di qua 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 Ruota del pozzo Munizioni stordenti Ma quindi Ma quindi Ah dovremmo uscire semplicemente Tornando indietro Cioè dovremmo Da dove Io semplicemente Dovrei tornare Praticamente tutto giù Che cosa Di qua No Dov'era Mi sono perso Allora di qua non è Ah è di qua Sì è qua Quindi devo tornare giù di qua Vedi Sì devo tornare giù di qua E poi uscire Ok Non c'era solo da fare Sta parte Lo sblocco E vado Da questa parte Però aspetta Perché mai dovrei andare di là io? Che l'altare Evidentemente perché Per l'altare Devo andare di qua Forse Ok Quindi No No Esatto di qua E' E' vedi che qua ci siamo ok quella è una capra gigante che ci fa una capra gigante lì è di qua oggi mi sbaglio sempre coi tasti si è di qua flacone braccia ok ma dov'è il mercante ti porgo le mie scuse ecco là che mi scrivono appartiene a lord moro? è questo che si intende con bellezza del grottesco? può essere eh una buona giornata a lei e ora andiamo a seguire il cartello questo qua spettacolo deve continuare però qua ci sono un sacco di munizioni cioè di cose ora che abbiamo la chiave a 6 ali possiamo entrare qui deluco buona fortuna ho sentito una sorta di appunto appunto sento ruggire io aspettare qui no 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 non ho sentito non no no non E che cap? Ho addirittura i lupi mannari arcieri Non si fanno mancare niente qui Ok Spettacolo deve continuare Ma sta cosa a me sta facendo più ansia Che spettacolo Spettacolo Io salgo Però so bene che Cavolo 难i oh No 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 Ma porca vacca Ma non ho più munizioni di nuovo E che è? Che cazzo Ma porca vacca Vabbè ma da davanti da dietro E che è? Che cazzo Che cazzo Che cazzo Che cazzo Non finiscono più Che cazzo Fortezza Oh oh Qua mi sa di brutto Cioè già li stavano arrivando a ordate infinite Figurati qua Sarà il loro rifugio Molto probabile Molto probabile Molto probabile Aspetterò Che cazzo Che cazzo Che cazzo Che cazzo Che cazzo Grazie. Quanti cacchio sono questi? È arrivato l'Urukai pure, no? Quanti cacchio sono questi? Ok... 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 Sì, sì, sì. Ok Porca miseria porca Più stretto no eh Non finiscono più Madonna Mature tra di loro si mangiano Ok Uh medikit E da un'ultima Da un'altra salvata ancora qua Che c'è un punto di salvataggio Ok Fatto Uh Non l'ho preso Il mio inventario è pieno E chi ca Allora Allora Questo lo monto qua Così che si crea Ok Adesso questo lo prendo Eh ok C'ho altro da montare Che magari Sono altre questioni Altre cose No eh Ho tutto Ok Però non posso mettere niente nel baule Perché i bauli non ci sono In sto gioco Ok Beh Si mette male Ah è quello Ma porco È arrivato Come mai Nessun altro Mai Non ci sono Spita sei Ah sei qua Raga ti sto usando un caricatore intero Batuta Sì Battuto Decisamente battuto Ok Si poteva mettere anche peggio Accogli Accogli Ok Io raccolgo tutto Uh E l'abbiamo battuto Grazie Porticina Porticina Abbiamo aperto Permessico Quello dovrebbe essere il capo dei cosi Raccogli Quindi Non ho idea di quanto Stia venendo lungo il video Ma Non so che tra poco Concludiamo Oh È l'ultimo Flacone Ma cosa Che spettacolo Eton Ben fatto Vieni fuori Stronzo Non te la farò passare Lisha Mantieni la calma Ancora uno sforzo E sarà tutto pronto Ti darò una mano E tu in cambio In cambio cosa Innanzitutto vieni qui Metti i flaconi nell'altare E il resto lo capirai da solo A presto Eton Dannazione Come faccio Perché ci dovrebbe aiutare Heisenberg No Qua ragazzi mi sfugge qualcosa Lui che ci vuole aiutare Non posso fare niente Però aspetta Il piatto Tesori Eccolo qua Ah ok Lo possiamo vendere Ok Andiamo sulla barca Andiamo Comunque raga Vi ricordo che Fra una decina di giorni Dovrebbe uscire Il DLC Da quando sto registrando Sto episodio Quindi Faremo Anche una serie Sul DLC Ma Aspetta Io ho detto Ok Qua E quindi Resident Evil Ancora non è concluso Perché c'è il DLC Su Rose Che dovrebbe uscire A giorni E probabilmente Anche La serie Sempre qua Di village Ambientato Però Giocato in Terza persona Quindi Se volete la serie In anteprima Vi ricordo di andare a Vi invito Anzi Più che vi ricordo Vi invito Ad andare Sul canale Twitch Della mia amica Milena Vigo Che saluto Approfitto qui Di salutarla Che mi ha consigliato Lei di portare Anche Resident Evil Village Avendo portato Il 2 E quindi La ringrazio Di questa Bellissima Avventura E quindi La cosa Dell'esperimento Ok Dovremmo aver fatto Tutto Eh Te pareva Che vibra Salve Eh vabbè Ma Anche lei Ci si mette Eh Però Io Mi ricordo Che qui C'era Della roba Ok Ok Quindi qui Siamo a posto Qui siamo a posto Noi siamo attraccati Da qua E quindi Ole Un cancello Do cavolo Siamo Ah Ok Ok Ho capito Allora Aspetta Ok Molto Bene Ragazzi Direi Che per oggi Possa essere Tutto La prossima La prossima volta Ripartiremo Da qui Io Come sempre Vi invito A lasciare Un bel like A commentare Condividere Iscrivervi al canale Se non l'avete ancora fatto E Alla prossima Ciao Belli E L tradicional Amo I